Cari fratelli e sorelle tanto amati dal Signore, Pace e bene a tutti voi da parte del Signore Gesù. E diciamo insieme, Si sono radati i Sacri Cori di Gesù, di Maria di Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Vi conceda di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore. L'uomo interiore è quella parte di me che, se si nasce a guidare dallo Spirito Santo, orienta tutto il mio essere, pensieri, sentimenti e azioni secondo il Cuore del Padre. Vivo così unito a Gesù, nella gioia e nella pace che viene dal Suo amore, forte nelle difficoltà e capace di amare, sempre. O Signore Gesù Cristo, effondi su di noi il Tuo Santo Spirito che ci dia il dono della fortezza con il quale potremo affrontare ogni difficoltà da vincitori come Te. Ed ora, accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà Ti vuole benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la Sua Madre Santissima prima di iniziare la Sua Passione. Quindi, per mezzo di intercessione, del Beato e sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, Ti benedico per imprimere in Te il triplice e suggello delle tre divine persone, la figlia che tu risorga dal Tuo decadimento per vivere nella Divina Volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi in prima nella Tua volontà il sigillo della Sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi in prima nel Tuo intelletto il sigillo della Sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi in prima nella Tua memoria il sigillo del Suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo. si risanato da ogni infermità spirituale e corporale e arricchite le abilità di ogni bene e virtù sia la Tua anima. E per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da Lui create. affinché tu lo riceva, tutto è benedetto da Lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, le medicine e tutto. Affinché resti come in abissato e coperto con queste benedizioni. insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto e tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'odiamo il Signore perché è buona, eterna, infinita, meravigliosa e la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù che parla al tuo cuore e ti dice Anima cara, offrimi l'amore della Maddalena poiché tutto mi è presente e per la comunione dei Santi ti appartiene. Tu fatichi a credere a un tesoro così grande, ma è una invenzione del tuo Dio che sorpassa le tue vedute di qua giù. Serviti allora della sua magnificenza. Cari fratelli e sorelle a tutti voi, pace e felicità nella divina volontà. siete sempre, Ave Maria, prega, prega per noi. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori.